L'ospedale di Acri non si tocca e il grido del corteo composto da centinaia di cittadini che ha sfilato fino alla cittadella regionale per protestare contro la riorganizzazione della rete ospedaliera approvato di recente dalla Commissione. Abbiamo già chiesto un incontro col Presidente, l'abbiamo rinnovato veramente perché ne avevamo già chiesto uno prima della manifestazione che era stata organizzata per il giorno 4. Oggi noi ci facciamo, siamo qua in cittadella in maniera pacifica, ci facciamo interpreti di quello che è un sentimento di preoccupazione che riguarda l'intera cittadinanza a Grese che è scesa in piazza in maniera numerosa, è scesa in piazza non a sostegno dell'amministrazione comunale perché noi non abbiamo dato nessuna connotazione di carattere politico a questa manifestazione. Noi stiamo manifestando perché è un peccato precludere il futuro a noi e noi rappresentanti degli studenti, io e Achille, io mi chiamo Simone, stiamo combattendo per il nostro diritto perché piuttosto che investire, tagliare, mi sembra una sciocchezza e per il nostro futuro, affinché rimanga qualcuno ad Acre, è necessario che l'ospedale venga anziché potenziato, potenziate. Grazie.